Non c'è posto per loro, da Nazareth a Gerusalemme, sostando nelle grotte del borgo di Betlemme, stipati tra le bestie, nasce la vita vera, che sana le ferite, illumina le menti, rinsalda l'umanità. Non c'è posto per loro, vagito di un bambino, lo stesso in ogni stirpe, dolori di una mamma, gli stessi in ogni dove, fatica di un padre, stesso sudore in ogni suolo. Animali nelle stalle, più umani degli umani, non c'è posto per loro. Dall'Africa o dall'Oriente, passando per deserti, patendo ogni violenza, mercificati come schiavi, stipati su barconi, perduti negli abissi, tendono le mani, imploranti, mendicanti di vita e di pace. Non c'è posto per loro. È una storia che ritorna, iniziata a Betlemme, passando per i campi di sterminio, fino a innesiuli di massa, mentre le nostre chiese risplendono di bagliori. In rifugi di fortuna nasce la vera luce, lì c'è posto per loro. È il Dio che nasce ai margini di umanità senza anima, tra strade indifferenti, negli occhi di implora, lungi da credenze imborghesite. Lì c'è ancora posto per loro. Versi dell'arcivesco Don Antonio Giuseppe Cagliazzo ha recitato il suo amico novedente Vito.